Quasi due anni di stop causa pandemia, un periodo interminabile che ha messo a dura prova il settore della cultura. Adesso però, che il peggio sembra passato, la ripartenza è alle porte. Manca davvero poco e siamo caricati e molto emozionati di rivederci, rincontrarci e riprovare quell'emozione che purtroppo lo streaming non ci poteva dare durante i mesi così difficili passati. Il Teatro di Cattolica, il Salone Snaporath, sono pronte ad accogliere nuovamente il pubblico in sala e lo fanno nel migliore dei modi, con un cartellone ricco di eventi in grado di coinvolgere diverse tipologie di spettatori. Il cartellone come di consueto del Teatro della Regina è vario, è aperto a tutti gli spettatori, questa è proprio la nostra cifra stilistica. Noi proponiamo spettacoli per tutti, ovviamente con una qualità a cui stiamo sempre molto attenti, perciò prosa, danza, musica, comicità. Sarà una stagione all'insegna dell'amore, moltissimi spettacoli parlano d'amore. Marisa Laurito, Pippo Del Bono, Paolo Cevoli, Ivano Marescotti sono solo alcuni degli artisti in cartellone, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cattolica e Ater Fondazione. Si riparte con molto entusiasmo perché così tanto tempo ci ha lasciato un po' la mare in bocca, quindi siamo in attesa di capire come il pubblico reagirà, siamo fiduciosi che reagirà bene, i primi segnali sono molto positivi e non è scontato per lo spettacolo al chiuso. Per la nuova stagione niente campagna di abbonamento a posto fisso, ma possibilità di acquistare dal 19 ottobre i singoli biglietti degli spettacoli in programma a novembre e dicembre. Naturalmente per entrare a teatro servirà il Green Pass. Quest'anno anche il mancato vincolo dell'abbonamento ci consentirà di chiedere agli spettatori di scegliere loro il percorso che vorranno fare, quindi questa è un po' una novità che secondo me potrà stimolare lo spettatore ad essere più presente e più partecipe.